Sono in arrivo buone notizie per gli studenti universitari siciliani. Il Ministero dell'Università della Ricerca, infatti, ha stanziato per la Sicilia 6,8 milioni di euro per 212 nuovi posti letto per gli studenti fuorisede assistiti dagli enti ERSU, Palermo e Catania. Si tratta del cofinanziamento del Ministero dell'Università attraverso un bando finanziato dal PNRR che assegna fondi per 46 interventi sul territorio nazionale ammessi al cofinanziamento per complessivi 150 milioni di euro. Secondo il decreto firmato dal Ministro dell'Università della Ricerca, Anna Maria Bernini, a Palermo il cofinanziamento sarà di 4 milioni 482 mila 300 euro e consentirà agli studenti palermitani di usufruire di 48 nuovi posti letto nel centro storico e 96 posti nella zona di via P3. Per Catania, invece, il cofinanziamento sarà di 2 milioni 356 mila 200 euro per 68 nuovi posti letto in centro città. Queste risorse, dice l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, daranno l'infa vitale agli enti per il diritto allo studio siciliani per incrementare il numero di posti letto destinati agli studenti fuorisede. Esprime soddisfazione anche il Presidente ERSU Palermo, Giuseppe Di Miceli, che sottolinea come l'ERSU Palermo, grazie a questo importante risultato, aumenti del 18% l'offerta di posti letto in favore dei fuorisede assistiti. Da gennaio saranno così disponibili 944 posti letto a fronte degli 800 messi a disposizione con l'ultimo bando di concorso. Questo risultato, dice, è solo l'inizio del percorso che abbiamo intrapreso insieme al Governo regionale e al nuovo assessore Turano. È un ottimo risultato anche per l'ERSU di Catania, evidenza il Presidente Mario Cantarella. Il cofinanziamento ottenuto dal Ministero dell'Università con il bando finanziato dal PNRR ha permesso di ottenere ben 2.356.200 euro che serviranno ad aumentare di 68 posti letto di ottima qualità in pieno centro di Catania.